Il responsabile della creazione dei Terminenzio è in realtà Gioconno stesso. Così i due cercano di tornare indietro nel tempo per cambiare il passato, nella speranza di modificare il futuro. Ma sei sicuro che funzionerà? Certo. Non sarà pericoloso? No, però potrebbe avere qualche effetto collaterale. Tipo nausea, vomito, secchezza delle falci. Non viaggiare nel tempo durante la gravidanza. In caso di persistenza di sintomi consultare un medico. Alcmin Rick. Sarà. Ora mi devi dire dove e quando esattamente hai scoperto che lei ti ha tradito. Guarda, me lo ricordo benissimo. Era il 7 aprile 1996. Saranno state sì e no le 10 di sera. Avevo comprato due biglietti per vedere il concerto dell'articolo 31. Per fare una sorpresa. Muoviti, Frankie, Frankie. Segui presi con Frankie, Frankie. Sì, Tamaro. Ancora, Tamaro. Tesoro, non è come pensi. Nooo. Perfetto. Il piano è il seguente. Noi torneremo nel 1996. Io impedirò che Samantha ti tradisca. Tu non scriverai il programma e così la guerra contro le macchine non inizierà mai. Sicuro? Reggiti. Scusa, ma perché siamo nudi? I vestiti si perdono sempre nei viaggi temporali. Come le valigie all'aeroporto? Sì, ma cos'è io? Ho freddo. Ssss. Vieni. Ehi, bei maschioni. Ora io salirò da Samantha e la convincerò a non tradirti. Tu rimani qui, non parlare con nessuno e soprattutto non parlare con te stesso. Adesso parlo con me stesso, parlo. Edo, come stai? Ah, sto bene, sto bene. Damaro? Sì? No! E tu chi sei? Il portino. Il drago. L'artino. L'artino. Beh? Un amico di Gioconno. Ah, che vuoi? Gioconno è molto importante per il destino dell'intera umanità, quindi non devi mai più tradirlo. Mi piace quando mi danno degli ordini. Tu sei... Gioconno? No, no, io sono Gioconno. No, no, ti assicuro che io sono Gioconno. Sì, ma io sono Gioconno che viene dal futuro. Dal futuro? E che ci fai qui? Guarda, è una lunga storia. Praticamente sono tornato indietro nel tempo con un cyborg per evitare che Samantha questa sera ti tradisca. Se non è un casino! Samantha mi tradisce? Sì, ma non ti preoccupare. Tanto c'è sopra T9 che sta sistemando tutto. Tesoro, non è come sembra. No! No! Torna quando vuoi. Perché l'hai fatto? Per testare se l'avrebbe rifatto. E quindi? L'avrebbe rifatto. Una calcolatrice, due limoni e una batteria per altro.